Ormai siamo tutti connessi, sempre di più abituati a mettere in rete, spesso su Facebook, informazioni apparentemente innocue che però potrebbero rappresentare delle vere e proprie insidie. Per questo la psicologa Elisa Marcheselli cerca di mettere in guardia soprattutto i genitori di bambini e adolescenti dai possibili pericoli che si possono correre. Gli stessi minori purtroppo contribuiscono a caricare in rete dei messaggi poco sicuri per loro. Io faccio sempre questo esempio, parliamo dell'area più diffusa del web dove tutti noi passiamo maggior parte del nostro tempo, ovvero Facebook. Quando carichiamo un'immagine, ad esempio la foto del nostro gattino, dobbiamo chiederci questa foto può essere rischiosa, può crearmi dei danni? Ebbene sì, perché dietro questa foto non c'è solo l'immagine del mio gattino, bensì ci sono tutte le informazioni aggiuntive che riguardano dove mi trovo, dove sto navigando, in quale momento della giornata navigo, che tipo di persona sono, quanti anni ho. E quindi internet viaggia per una logica che è denominata rilevanza di informazioni e questo può essere molto pericoloso per un navigatore inesperto. Il mondo di internet è pieno anche di messaggi subliminali che spesso si nascondono anche nei più famosi cartoni animati o addirittura in un semplice braccialetto. Grazie a queste conferenze io sto iniziando a fare dei gruppi d'incontro con genitori, nonni e gli stessi adolescenti e ragazzi. E' venuta la mamma con un braccialetto che il figlio aveva comprato in un semplice banchino e abbiamo trovato un messaggio subliminale addirittura dietro questo braccialetto. La scritta occhio era diventata oppio. Quindi cosa significa questo? Esistono dei messaggi nascosti in tutto il mondo virtuale ma anche in quello reale che se noi iniziamo a conoscere, iniziamo a sapersi difendere da questi tipi di messaggi possiamo essere meno vulnerabili in certe situazioni pericolose. E i cartoni, molto spesso nelle mie conferenze ho mostrato vari tipi di cartoni dove ci sono nascosti proprio dei messaggi sessualizzati, addirittura a volte anche pornografici. C'è poi un fenomeno che si sta diffondendo sempre di più tra le ragazzine, diffondere tramite Facebook autoscatti sessuali in cambio di cariche telefoniche o di denaro. A volte si arriva alla vera e propria prostituzione. Diventa quindi fondamentale per un genitore poter riconoscere eventuali segnali che possono rappresentare un campanello d'allarme da non sottovalutare. Ogni adolescente dà dei segnali importanti. Innanzitutto dei segnali oggettivi che sono ad esempio dove è posizionato questo famoso computer, in quale ore del giorno e della notte questa ragazza chatta, se ha dei dispositivi elettronici di navigazione che porta sempre con sé, se ha doppie schede telefoniche. Molto spesso le ragazze che fanno sexting, ovvero che caricano in rete delle foto a sfondo sessuale per il cambio di ricariche telefoniche o legate anche a una micro prostituzione, hanno sempre una doppia scheda telefonica. E questo è un primo segnale oggettivo. Inoltre ci sono tutti segnali adibiti alla comunicazione non verbale che un genitore attento potrebbe scorgere in maniera molto efficace.